Di casi collegabili al mostro di Firenze ce ne sono stati tanti, tra l'altro varie volte si è parlato di questo dottore che era gastroenterologo, se non vado errato, il Narducci, che è stato sfiorato varie volte da delle indagini successive ai fatti del mostro di Firenze, quanto meno come mandante occulto per eventuali messe nere e quindi un po' si riallaccia, almeno c'è una grossa suggestione.